ciao raga io nel dubbio mi metto avanti sto preparando tre vasche per le birre non si sa mai workout giovedì 14 maggio oggi ragazzi abbiamo un workout a staffetto abbiamo da completare sei round da quattro minuti di lavoro suddivisi da un minuto di recupero nei quattro minuti di lavoro cercherò di andare a completare più round possibile alternandomi un round io e un round il mio compagno quattro minuti 3 lateral barbie over the dumbbell per me in questo caso 3 one arm quindi vado utilizzare braccio singolo devil press ancora con lo stesso braccio sono 3 hang power snatch e ancora stesso braccio sono dei tracer un round lo completo io parte il mio compagno massimo numero sarà il nostro obiettivo dato che sono one arm magari alterniamo le braccio può essere una buona idea round successivo un minuto di recupero successivi quindi quattro minuti andiamo ad alternare con massimo numero di round alterno un round di un round il mio compagno ma questa volta è composto da 30 double under salti doppi di corda o jumping jack per andare a sostituire ancora sei sempre braccio singolo overhead squat esercizio abbastanza difficoltoso a livello di mobilità posso andare a sostituire con una bacchetta vado a fare i miei classici overhead squat guardiamo assieme raga rapidamente gli esercizi abbiamo dei barbie over the dumbbell quindi eserco il mio barbie cerco quando vado a saltare di passare esattamente sopra al mio dumbbell abbiamo dei devil press a braccio singolo quindi completo barbie e da lì porto su in alto rimango ancora con lo stesso braccio e vado a completare un hang power snatch ok e ancora stesso braccio appoggio e vado a fare i miei tre thruster ok tre ripetizioni tre ripetizioni tre ripetizioni tre ripetizioni completo round partirà il mio compagno alla fine dei quattro minuti abbiamo detto avremo da alternare con 4 minuti double under o jumping jack ok e braccio singolo overhead squat faccio fatica pacchetta accorso oggi ragazzi è giovedì quindi stasera oltre al nostro workout classe di zoom alla quale naturalmente vi aspettiamo maestro sindoni che ci accompagnerà per la lezione di weight 67 maestro sindoni weight 78 classe di zoom vi aspettiamo un grande abbraccio